Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Oggi è il primo di aprile 2015 e questa è Fano TV sul canale 17 per la consueta rassegna stampa del mattino. 7.30 in diretta, Occhio giornali, tra poco li vedremo. Adesso uno sguardo come sempre al Santo e anche se oggi più che Santo ricordiamo che è mercoledì Santo ma tutta la settimana è Santa per cui per i cattolici è una settimana molto intensa. Domani entreremo nel giovedì, quindi Triduo, Pasquale eccetera eccetera. Insomma tante belle cose da vivere e lo faremo anche con la consuetta collaborazione con il Centro Telesio Vaticano e Telepace e quindi tutte le dirette del Papa, di Papa Francesco anche sul nostro canale senza tante chiacchiere. Il sole è sorto alle 6.49 e tramonterà alle 19.35. Oggi avremo una giornata di sole, guardate che bella fotografia con un'aria, dopo tutto il vento che è tirato ieri, insomma abbiamo un'aria pulita, un cielo terzo, guardate proprio una bella immagine. Anche le fotografie per chi ha la passione delle foto, immagino oggi siano giornate molto belle e che si possono sfruttare insomma. Allora questa è la fotografia di Fano, la temperatura è di 13 gradi e 6 alle 7.30. Il cielo sarà sereno come dicevo, temperatura in diminuzione nei valori massimi, i venti di brezza tese, il mare sarà inizialmente mosso con moto ondoso, poi in diminuzione fino a poco mosso. Per la giornata di domani, giovedì 2 aprile, avremo un cielo sereno poco nuvoloso, poi venerdì, venerdì 3 aprile, anche qui il tempo si comincia a guastare con nuvolosità in aumento. Temperature in aumento nei valori minimi, abbiamo detto il fine settimana è così così, ci sarà un probabile peggioramento nella giornata di sabato e da verificare ancora l'attendibilità per quella di domenica, quindi non ci esprimiamo sulla giornata di Pasqua. Allora c'è la notizia a Fano della partenza dei profughi dall'hotel Plaza dove hanno alloggiato per diversi mesi, c'è questa notizia dunque che trattano tutti i quotidiani, poi c'è un po' di cronaca e la politica. Come sempre ma c'è anche il problema delle buche, il problema delle buche sulle strade che in particolare quelle dell'entroterra con numerosissime frane che ci sono un po' ovunque, le vedremo. Allora cominciamo dalla pagina di Fano del resto del carino. Allora dicevamo dei profughi, Fano ne sta parlando ormai da diverso tempo, non sta uscendo una bellissima fotografia della nostra città, non so come mai questa volta ha preso questa brutta piega. Fano non è una città razzista, però quello che ne emerge dalle cose che abbiamo letto e quant'altro pare proprio che invece lo sia. C'è Aguzzi che ieri ha fatto, l'ex sindaco che ieri ha fatto una conferenza stampa sui profughi, Aguzzi è antibuonista, fateli lavorare, dice il comune almeno si organizzi per le attività socialmente utili, sono troppi anche nella vita quotidiana e per impiegarli ci si accordi con la prefettura. L'unica voce contrastante, qualcuno direbbe non poteva essere che altrimenti, trattandosi di un responsabile, in questo caso della diocesi, parla Gabriele Darpetti che dice quante sciocchezze da chi si dice cristiano, persone che vanno a messa e poi in realtà sparano contro quelle che dovrebbero essere persone, fratelli, almeno fratelli che vanno in qualche modo accolti. La replica dell'assessore invece oggi fermiamo l'accordo per impiegare quelli che arriveranno. Allora andiamo adesso invece sull'altro argomento, torneremo sul problema dei profughi, sull'argomento dei profughi. Allora, buche lunari, corsie collassate, viaggio nel disastro strade, arterie tra la valle del Cesano e quella del Metauro, chiusa al traffico la comunale di Orciano, disco rosso per la 5 bis. L'ingegner Anniballi dice la situazione è invivibile e la colpa è la manutenzione che da noi non esiste più. Sempre sulla pagina del resto del Carlino, rissa sfiorata il calcetto dei ragazzini, si tratta di una partita di calcio a 5 nel campionato allievi, hanno tutti tra i 15 e i 17 anni i giocatori, rischia di degenerare. Caos a fine gara all'impianto di Posatora che si trova in Ancona. In campo due squadre di ragazzini del Cus Ancona e del Fanocalcio a 5. L'incontro vinto sul filo di lana dai Dorici, quindi dagli Anconetani, per 8 a 7 ha suscitato la reazione dei fanesi. La guerra del turismo sportivo la perdiamo, questa guerra, anche se in questi tempi di guerra vera, parlare di guerra per il turismo è un po' così. Comunque la guerra del turismo la perdiamo con gli impianti, dice Luciano Cecchini degli albergatori, lì siamo inferiori, non con gli alberghi. Nei nostri hotel puntiamo sulla qualità, non abbiamo i serbatoi da 300 camere a botta, anche perché quando si muove lo sport si muovono grandi eventi, si muovono tantissime famiglie, quindi se gli alberghi di Fano non riescono a farli stare insieme, è ovvio che vanno da altre parti dove il numero degli alberghi è maggiore. Lavoraggine sulla panoramica, da lì deve passare il giro d'Italia, parla l'ingegner Sorbini, c'è una frana in corso, sul caso Fiorenzuola per lo smottamento di domenica occorrono progetti più ampi. Centauro ancora grave dopo la caduta alla Pica, il 42enne di Monte e l'Abbate, lo vedremo tra poco. Poi il Carlino questa mattina racconta di un siparietto fuori programma in Consiglio Comunale a Pesaro, dove il Movimento 5 Stelle a un certo punto un consigliere ha ironizzato sbandierando la determina comunale di acquisto di un iPhone, un iPhone 6 per il sindaco Matteo Ricci da 900 euro. Il Movimento 5 Stelle va bene, è pagato dai cittadini. Pazzagli è ironico in Consiglio, mentre Nobili del PD dice è una non notizia. La replica del sindaco ovviamente dice sì, è un iPhone 6 da 900 euro, ma per me è uno strumento di lavoro. A Pesaro infiltrazioni nel Tribunale, chiusa un'aula d'udienza, è accaduto un pannello del controsoffitto, l'attuale Palazzo di Giustizia in Monco va completato, dice il progettista Francesco D'Agostini, che rivela come lo stop al secondo stralcio abbia reso insufficiente il Tribunale. Per mancanza di distanza il Comune paga 100 mila euro di canoni di affitto. Apriamo adesso il Corriere Adriatico, dicevamo degli incidenti degli ultimi giorni. Ci sono due motociclisti in coma, le condizioni restano gravi. Stiamo parlando di due persone, un 42enne residente a Monte Labate, Massimiliano Lugli, che lunedì sera si è schiantato in sella al suo scooter lungo il rettilineo di fronte alla fabbrica Pica, e poi di Matteo Tomassini, le cui condizioni restano purtroppo ancora gravi. Matteo Tomassini, 48 anni, di Tavernelle di Serrungarina, anche lui ricoverato all'ospedale di Torretti d'Ancone, in seguito alle gravi ferite riportate nell'incidente di sabato scorso lungo la superstrada mentre viaggiava in sella al suo T-Max insieme alla compagna. La pagina di Peso Urbino, Fossombrone, ricoveri, blocco temporaneo. La direzione dice per i troppi pazienti acuti che hanno intasato l'ospedale di Urbino. La pagina di Fano, guardate come hanno lasciato l'albergo i profughi. L'albergo è lasciato in condizioni pietose. Parla il titolare del Plaza, che accusa profughi abbandonati a loro stessi. Questa amministrazione ha fallito l'accoglienza, dice l'ex sindaco Guzzi. Gli immigrati dovevano essere utilizzati in lavori socialmente utili. Solo in questa città tante strumentalizzazioni, scrive Simona Ricci, segretario generale della CGL. Sulla Rincicotti-Orciani, qualche giorno di respiro, breve prolungamento della cassa integrazione per i dipendenti che rischiano il posto di lavoro. Per la CISL la soluzione sarebbe a portata di mano. Se Aset Spa chiuderà l'azienda, restano senza lavoro e ammortizzatori ben cinque dipendenti. Poi si dibatte anche sulla proposta di Alberto Santorelli di trasformare questo palazzo, che si trova in piazza 20 Settembre a Fano, in albergo. Clini, Bastianelli e Berardi, che rappresentano un po' la cultura della città, dicono no contro la vendita di questo edificio. Patrimonio che deve rimanere pubblico. Differenziata, attenti alle multe, Lucchetti chiede maggiore cura nel conferimento della plastica e degli sfalci. E poi sotto ancora altre notizie che riguardano appuntamenti vari, che potrete leggere acquistando come sempre il quotidiano in edicola. A Pesaro, Joe Baxter, passiamo al messaggero, Joe Baxter, ribasso, dati in controtendenza rispetto a quelli nazionali, si assume meno dell'anno scorso, un calo che coinvolge non solo i contratti a tempo indeterminato, ma anche i precari. Dopo l'incidente protestano i residenti, questo è l'ultimo incidente in ordine di tempo in violenza, dove un'auto si è messa a vedere se si è capovolta. Adesso protestano i residenti di violenza, poi nascondeva la cocaina nel serbatoio dell'auto. La polizia arresta per spaccio un operaio di Fermignano. Per quanto riguarda il meteo, aria fresca e secca per un giorno, poi sarà primavera. Allo scientifico Marconi la raccolta differenziata si fa in classe. Entriamo nelle pagine interne, allora la politica regionale, nuova giunta, sì ai tre assessori esterni, statuto, 30 annuncia il no di Forza Italia, poi si confronta con il gruppo e c'è il via libera, sì la modifica anche da spacca. Matteo Ricci dice, Renzi nelle Marche nei primi giorni di maggio, annuncia dunque la presenza del Premier, l'Udc battaglia per il simbolo nella lista a sostegno di Ceriscioli. Ricci da Pesaro in qualità di sindaco, Ricci continui tagli al bilancio, costretti a fare delle scelte, il sindaco dice su Pesaro Studi e l'ex tribunale non si torna indietro. Delle Noce, l'assessore al bilancio, per ora 20 mila euro per detassare le nuove imprese. All'ex AMGA, l'ex AMGA, la sentenza, quella sentenza è una beffa, i residenti sono amareggiati, ci aspettavamo una maggiore severità del giudice davanti al grave danno ambientale. La Presidente del Comitato dice, chiederemo un incontro con il Comune per avere certezze sulla bonifica dell'area. Poi chiudiamo con la pagina di Pesaro Urbino, il Job Act non tira, calano i contratti a tempo indeterminato. E province piace il sì della Regione sulla legge del riordino. Ed è tutto per la rassegna stampa di oggi, grazie per averci seguito. L'appuntamento con l'informazione torna stasera alle 20.30 con il telegiornale Occhio alla Notizia. Buona giornata a tutti. Grazie a tutti.